Si concluderà il prossimo 14 maggio il progetto Keramos, percorso culturale sulla ceramica di Gela attraverso i secoli. Si tratta di un percorso culturale nel campo della ceramica alla ricerca delle radici storiche di quanto è stato patrimonio della cultura e dell'artigianato locale. È importante risalire alle origini e recuperare quanto ci appartiene anche attraverso il mondo della ceramica che con i suoi reperti ci ha messo nelle condizioni di conoscere le abitudini del vivere quotidiano degli abitanti di Gela sin dalle sue origini. L'obiettivo generale del progetto è quello quindi di realizzare un percorso di impresa sostenibile capace di coniugare sia l'aspetto tecnologico e competitivo con quello creativo e solidale in cui giovani e meno giovani in cerca di preoccupazione provenienti da diverse realtà culturali, sociali e con abilità altre tramite il supporto di correzionisti possono sviluppare e valorizzare le proprie capacità al fine di creare sviluppo. Con il MICOS abbiamo avviato sul territorio un progetto di grande rilievo in collaborazione con Museo Archeologico di Gela e l'Istituto Liceo Artistico e Liceo Scientifico, Progetto H guidato dall'architetto Pino Valenti un progetto di grande rilievo che vuole promuovere e valorizzare quella che è la produzione ceramica del territorio soprattutto nell'ambito greco e medievale. Un progetto che oggi ha visto la partecipazione di un esperto ceramista proveniente dalla Spagna, dalla zona di Cadici il quale riesce a fare delle riproduzioni utilizzando i metodi più antichi appunto per la lavorazione e per la cottura dell'argilla. Tale progetto proseguirà nei prossimi giorni attraverso delle visite specializzate soprattutto nell'ambito di alcuni musei che si occupano nello specifico di ceramica, andremo a Caltagirone, proseguiremo con le attività al Museo di Gela e si spera che le iniziative appunto di questo Gela non possono coinvolgere sempre di più gli studenti. L'oggettivo di questo progetto Keramos è fare ceramica moderna, contemporanea, però con i metodi antichi. Perché? Perché fare ceramica greca, già abbiamo scoperto come si faceva, però già è fatta. Forse questa combinazione può incentivare ai ragazzi che hanno delle inquietudine di fare negozi, di fare cose nuove può incentivare un po' a fare una cosa diversa e nuova.